TG Tech, TG Tech, l'informazione dal mondo dei videogiochi e della tecnologia in collaborazione con italiatopgames.it Ciao amici di Simpli Radio e bentornati al TG Tech ogni giovedì alle 16 grazie alla collaborazione di italiatopgames.it e videogiocaregratis.it ecco a voi le tre notizie più calde della settimana dal mondo dei videogiochi e della tecnologia e alla fine un super contest che vi fa vincere fantastici premi questa settimana si vince il Rugby 20 per PlayStation 4 il premio e il codice download per scaricare il gioco completo da PlayStation Store con un ampio range di opzioni tattiche, giocate offensive e schemi di gioco i fan del rugby troveranno tutte le caratteristiche del loro sport più amato in questa nuova bellissima simulazione sportiva per scoprire in anticipo la domanda che faremo fra poco correte sulla home page di italiatopgames.it e poi veloci a rispondere correttamente al momento giusto ma ora iniziamo con la posizione numero 3 del TG Tech in terza posizione ci sono i giochi in regalo di Epic Games Store per PC come ogni giovedì anche oggi il famoso store digitale regalerà dei giochi completi a tutti i suoi utenti questa settimana doppio regalo visto che tra pochissimo dalle ore 17 per l'essettezza saranno disponibili gratuitamente Kingdom Come Deliverance e Dad's Deaths per tutti i dettagli non dovete fare altro che visitare il sito videogiocaregratis.it in seconda posizione c'è invece Daymare 1998 il videogame dell'italianissimo team Invader Studios dopo la sua scita su PC sarà disponibile anche su PlayStation 4 ed Xbox One dal prossimo 28 aprile ispirato alle terrificanti esperienze survival horror inaugurate dai capolavori che hanno segnato indelebilmente gli anni 90 Invader Studio presenta la propria visione del genere dove le meccaniche moderne si sposano alla perfezione con le atmosfere old school dei titoli più amati di sempre ed in prima posizione infine troviamo Outriders Square Enix ed il team di People Can Fly hanno svelato che lo sparatutto cooperativo sarà disponibile alla fine del 2020 su PlayStation 5 ed Xbox Serie X con sparatori intense, poteri incredibili e un arsenale pieno di armi ed equipaggiamento Outriders offre innumerevoli ore di gioco create da uno dei migliori sviluppatori di shooter in circolazione su italiatopgames.it potete vedere il reveal trailer in formato integrale da Fabrizio Tropeano di italiatopgames.it per oggi è tutto